Conto alla rovescia ormai in vista delle prossime elezioni europee. In Italia si vota domenica 26 maggio dalle ore 7 alle ore 23. Ai fini delle votazioni l'Italia viene divisa in cinque circoscrizioni elettorali. Sicilia e Sardegna fanno parte della quinta circoscrizione. In queste due regioni la scheda che sarà consegnata agli elettori sarà di colore rosa. Le elezioni europee si terranno in tutti e 28 i paesi membri dell'Unione Europea da oggi al 26 maggio, anche se lo spoglio dei voti sarà simultaneo e inizierà in tutti i paesi domenica sera dopo le 23. L'Italia eleggerà 73 membri del nuovo Parlamento Europeo. Altri tre deputati in più saranno successivamente assegnati all'Italia se e quando il Regno Unito formalizzerà la propria uscita dall'Unione Europea, ossia la cosiddetta Brexit. Ogni circoscrizione elegge un numero prestabilito di europarlamentari rispettando i criteri proporzionali. Per accedere al Parlamento europeo qualsiasi partito deve superare la soglia di sbarramento del 4%. Per votare occorre essere ovviamente maggiorenni e presentarsi al seggio di appartenenza muniti della tessera elettorale e del documento di identità. Nell'urna bisognerà esprimere il proprio voto apponendo una X sul simbolo del partito prescelto, con la matita copiativa che vi verrà consegnata al seggio. È possibile, ma non obbligatorio, esprimere poi da 1 fino a 3 voti di preferenza per candidati compresi nella lista votata. Le eventuali preferenze, quindi, devono riguardare unicamente candidati presenti all'interno della lista votata. Non è possibile, perciò, il cosiddetto voto disgiunto. Nel caso l'elettore voglia indicare più preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda e della eventuale terza preferenza. Quindi, nel caso in cui le preferenze espresse siano due, queste devono riguardare un candidato uomo e un candidato donna. Se le preferenze espresse invece sono tre, è corretto votare o due uomini e una donna, oppure due donne e un uomo. I risultati definitivi si conosceranno a notte fonda.